Innanzitutto anche per passione personale mi sono sempre approcciato a questo mondo, mi piace quindi mi sono detto perché no. Ero in cerca di occasioni, sono felice di essere qui per poter fare questo percorso insieme agli altri. Ho avuto comunque molti riscontri positivi di persone che hanno lavorato qui, ho pensato che fosse un'ottima opportunità e ho deciso di applicare mandando il curriculum. A breve saremo messi anche su dei progetti concreti su cui lavorare quindi diciamo c'era un buon equilibrio tra quello che era l'aspetto poi lavorativo sul campo e quella che era la formazione. Penso una delle cose positive sia appunto che l'Academy sia in presenza, c'è la possibilità comunque di essere in presenza e molte Academy comunque non forniscono questa possibilità. Quindi anche il confrontarsi con i colleghi perché spesso anche in caso di studio autonomo abbiamo sempre comunque colleghi o superiori con cui confrontarci e penso che questo sia un ottimo modo per imparare anche poi a capire quello che sarà sul campo il nostro lavoro alla fine del percorso formativo. L'ambiente soprattutto che è calmo, sembra di stare in famiglia, i task che ci danno, le cose da studiare, è molto ben strutturato. Abbiamo sempre l'opportunità di confrontarci con dei tutor, di poter confrontarci anche tra di noi. Penso che sia il modo migliore in assoluto per imparare. Siamo sempre spinti ad imparare di più e di più ogni giorno quindi è molto formativa come esperienza e sono molto molto soddisfatto sinceramente. È un percorso che mi ha anche aperto come persona, più coinvolto nelle attività e meno timido diciamo. Stiamo imparando appunto anche ad approcciarci con altre persone quindi a incrementare il lavoro di team, il lavoro di gruppo. La gestione delle chiamate, la gestione delle task quindi tutto un approccio agile al lavoro insomma. Sto imparando quella che è proprio la vita lavorativa quindi quella di tutti i giorni quindi il continuo confronto con gli altri, le difficoltà che si possono trovare ogni giorno in azienda e anche come affrontarle quindi lavorativamente parlando un momento di crescita molto importante.